La media non può riassumere tutte le informazioni contenute in una distribuzione di dati. In questo esempio possiamo notare il risultato di due verifiche che hanno la stessa media, ma di fatto se proviamo a fare una rappresentazione grafica vedremo che le cose sono un po' diverse. Rappresentando la situazione diversamente, e cioè andando a contare i singoli voti che compaiono in entrambe le verifiche, ci accorgiamo visivamente che le due verifiche sono sostanzialmente diverse, ovvero che i dati si distribuiscono intorno alla media in modo diverso. In termine tecnico possiamo dire che hanno una dispersione diversa. Come possiamo determinare matematicamente questa differenza che appare così evidente nei grafici? Dobbiamo individuare attraverso gli indici di variabilità un indice che mi dica chiaramente quanto le due verifiche sono diverse l'una dall'altra. Ripartiamo dalle nostre due verifiche e calcoliamo lo scarto di ogni voto rispetto alla media. Ripartiamo dalle nostre due verifiche e calcoliamo lo scarto di ogni voto rispetto alla media. Anche a occhio possiamo renderci conto che gli scarti sono diversi nelle due verifiche, quindi sono più pronunciati nella prima verifica rispetto alla seconda. Leggendo il grafico, effettivamente quello che il grafico ci dice è che nella prima verifica i voti si allontanano di più dalla media, appunto abbiamo detto, si disperdono di più intorno alla media. Ma in media quanti valgono questi scarti? Beh, di fatto utilizzando gli scarti in questo modo la loro media sarà sempre uguale a zero perché abbiamo degli scarti positivi e degli scarti negativi che si annullano a vicenda e che quindi danno una media pari a zero. Potrebbe essere più utile allora elevare al quadrato questi scarti in modo da toglierci il problema del segno negativo. In effetti qua, se andiamo a fare una media, otteniamo un risultato diverso rispetto allo zero di prima e lo stesso in questo caso. Quello che poi ho calcolato qua è la media di questi scarti al quadrato ovvero quella che ho ottenuto, non è più semplicemente uno scarto al quadrato ma ho ottenuto una varianza. Il problema che ci si pone adesso è che questa varianza non è dimensionalmente omogenea con i dati stessi ovvero se i dati sono ad esempio delle misure di lunghezza quindi sono espresse in metri la varianza sarà in questo caso espressa in metri quadrati. Abbiamo bisogno quindi di una grandezza che sia omogenea con quelle di partenza. Se andiamo a fare la radice quadrata di questa varianza otteniamo lo scarto quadratico medio detto anche deviazione standard. e questo effettivamente ci dice che in media i nostri voti si discostano di due punti rispetto alla media e invece nel secondo caso rispetto alla media si discostano di poco più di un punto. Abbiamo effettivamente questa grandezza, questo scarto quadratico medio ci dice appunto quanto si allontanano i dati di partenza dalla media che abbiamo appena calcolato. Quindi attraverso la media che è un valore di sintesi e la deviazione standard che è un indice di variabilità abbiamo in realtà una descrizione abbastanza buona del campione che stiamo considerando ovvero pur facendo un riassunto diciamo così abbiamo però una presentazione abbastanza chiara della situazione che abbiamo davanti. Abbiamo delle funzioni di Excel che ci permettono di fare molto più velocemente quello che abbiamo fatto fino ad ora ad esempio la varianza abbiamo ottenuto 4,1 dopodiché a questo punto per andare a calcolare lo scarto quadratico medio non si deve fare altro che fare la radice quadrata della varianza che abbiamo appena calcolato. Però utilizzare il calcolo come abbiamo fatto fino a questo momento con questa tabella ci permette di arrivare al nostro risultato ragionando sui vari passaggi che facciamo. Consideriamo a questo punto questa distribuzione di dati se facciamo il nostro procedimento ne calcoliamo innanzitutto la media facciamo poi lo scarto ovvero la differenza di ogni valore rispetto alla media e sappiamo, se vogliamo provare a controllare il nostro risultato che la media sarà pari al 0 eleviamo al quadrato ogni scarto e otteniamo anche in questo caso la media che sarà la nostra varianza quindi facendo la radice quadrata della varianza otteniamo la deviazione standard quindi abbiamo la media che è pari a 12 la varianza che è 1,5 e la deviazione standard 1,22 questo schema che abbiamo appena utilizzato lo possiamo usare anche per altre distribuzioni e qua si esprime in pieno la forza di Excel anche in questo caso ho una media pari a 12 ma la varianza è di 25 non di 1,5 e quindi la deviazione standard è pari a 5 in effetti la serie di numeri che abbiamo rappresentato è molto più diversificata rispetto a quella di partenza in questo caso i voti della verifica sono dati in modo un po' diverso quindi abbiamo oltre ai voti la loro frequenza per calcolare la media dobbiamo innanzitutto moltiplicare ogni voto per la frequenza quindi fare la somma di questi risultati e dividere poi la somma di questi risultati per il totale e questa sarà la nostra media calcoliamo quindi lo scarto di ogni valore rispetto alla media eleviamo poi al quadrato ogni scarto una volta calcolati questi scarti dobbiamo moltiplicarli per le frequenze sommare i risultati e dividere il risultato per il totale abbiamo quindi ottenuto la nostra varianza e facendo nella radice quadrata abbiamo la deviazione standard quindi in questa distribuzione di dati abbiamo una media pari a 5,9 ed una deviazione standard pari a 0,7 possiamo utilizzare il calcolo fatto fin qui per determinare media e deviazione standard di una nuova distribuzione di dati in questo caso le frequenze sono diverse possiamo notare subito che la media è la stessa ma cambia la deviazione standard ovvero se questi fossero i risultati di due verifiche i risultati sarebbero ben diversi pur avendo la stessa media in altre parole la seconda verifica si disperde maggiormente attorno alla media rispetto alla prima verifica lo possiamo vedere anche dalle frequenze nella prima verifica i voti sono distribuiti fra 5 e 7 nella seconda verifica sono distribuiti fra 4 e 8 questo è quindi il grafico della prima verifica mentre questo è il grafico della seconda verifica come dicevamo graficamente la cosa appare evidente fin da subito dai dati invece racchiusi nella nostra tabella no attenzione però quando i dati sono pochi come in questo caso visto che parliamo di una distribuzione di 20 rilevazioni potremmo in realtà essere tentati di analizzare la situazione caso per caso perché il fatto che la nostra popolazione abbia un numero abbastanza basso di unità ci permette anche questa analisi della situazione le cose cambiano quando il numero di unità nella nostra popolazione aumenta e quindi rende necessario il ricorso a questi strumenti meglio Skills Level � 수 d'exercito valenta faccio faccio